We're Orchetti, supportatemi tutti quanti come creatore scrivendo il codice OrcouverdeGamer12, tutto attaccato. Supportandomi come creatore avrete l'opportunità di giocare con me su Fortnite. E se volete potete anche inviarmi la richiesta di amicizia su Epic Games, le accetto a tutti. Il mio id Epic Games è uguale al codice creatore che potete trovare scritto anche nella descrizione. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti